Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi gireremo un piccolo video per illustrarvi un nuovo tipo di trattamento. Si tratta di un trattamento di ricostruzione per i capelli, soprattutto per capelli che sono stati un po' bastonati con trattamenti di decolorazione oppure che sono stati maltrattati da X-Station sbagliate, si sono spezzati. Quindi si tratta di un trattamento rimpolpante che attraverso le varie fasi che ti illustrerò dopo questa breve presentazione, porterà pian piano, di volta in volta, almeno con 4-5 trattamenti, a richiudere di nuovo tutte le squame dello stelo. Ci sono tanti trattamenti in merito che fanno questa operazione, questo tipo di cose, ma nel caso specifico si tratta di una modalità nuova. Infatti il trattamento verrà veicolato attraverso un sistema a vapore che ti illustreremo poi a breve. Ci siamo a base della collaborazione di una nostra gentile cliente e la mia collaboratrice Rossella si adopererà per effettuare il trattamento. Quindi giusto un breve video per illustrarti un trattamento da favola. Il beneficio maggiore che potrai ottenere da questo trattamento è non solo la chiusura dello stelo perché sappiamo esattamente che quando si va dal parrucchiere, allora in qualche modo, anche con un trattamento diciamo di base, il parrucchiere riesce a trattare bene anche lo stelo con la spazzola. Ma quando poi i capelli vengono fatti in casa oppure da decolorazioni sbagliate, colorazioni magari fatti frettolosamente in casa da persone incompetenti e allora si arriva a un punto di rotturo dove il capello si ribella. Chiaramente è necessario ripristinare i capelli altrimenti bisogna tagliarli. Quindi non c'è verso da questo punto di vista. Quindi ti chiedo giusto due minuti di pazienza e continueremo immediatamente alla presentazione all'esecuzione del trattamento. Ti ringrazio. Eccoci qui. Allora qui abbiamo il capello che si presterà diciamo al nuovo trattamento e qui abbiamo la nostra gentile cliente che saluto, che si chiama Anna e qui abbiamo allora una struttura di capello dalla mezza lunghezza, da quattro dita dalla radice fino alle punte molto porose, molto aperte perché sono state tempo fa decolorate diciamo nel periodo estivo quando noi eravamo chiusi con l'attività, la signorina qui presente si è prestata nelle mani sbagliate, ahimè purtroppo. E noi adesso in questo momento cercheremo di far riprendere anche un po' questa fiducia per evitare l'azzeramento dei capelli del taglio. Quindi ci adopereremo con questo trattamento con la speranza che poi chiaramente un po' alla volta possiamo ripristinarli del tutto. Quindi ci accingiamo nel posto di lavaggio per cominciare la prima fase di shampoo. Allora eccola qui che siamo nella prima fase, lei è Rossella, la mia collaboratrice, quindi faremo un primo shampoo, anzi due passate di shampoo, questo shampoo in modo specifico diciamo con un pH molto alto, alcalino che dovrà aprire le squame del capello per fare in modo di pulirlo abbastanza da poter ricevere poi il trattamento nella seconda fase. È stato leggermente diluito perché lo shampoo con un pH 9 è abbastanza aggressivo, ma questo viene diciamo da una conseguenza del trattamento. Dopo questa prima fase faremo passare la cliente dall'altra parte per effettuare il trattamento. Eccoci qui, allora passiamo alla seconda fase, il prelievo del prodotto che verrà inserito insieme ad altri prodotti all'interno del vapore. Questo è un preparato che verrà inserito in questo applico, che sarebbe il vaporizzatore. viene inserito, poi abbiamo un secondo prodotto che verrà inserito nella quantità necessaria diciamo prima dell'applicazione. Dopodiché applicheremo sui capelli un altro prodotto che è un equalizzatore di porosità per evitare che la differenza della struttura possa complicarsi all'interno dell'interno della struttura. Volevo dire che oltre a chiudere le squame il trattamento serve pure per tutte quelle persone che abitualmente passano la piastra diciamo ogni settimana quando fanno lo shampoo a casa è inevitabile che con passare del tempo tutta la mezza lunghezza e le punte incominciano ad aprirsi troppo quindi fanno le doppie punte e di conseguenza il capello incomincia a cedere a spezzarsi quindi dopo questa prima fase di pettinata incominciamo l'applicazione del prodotto in sé si accende il vaporizzatore non appena incomincia diciamo ad uscire il vapore si può già applicare tranquillamente in tutto dura 100 minuti quindi è molto veloce anche come tipologia di trattamento quindi in totale un'ora per effettuare la piega più il trattamento quindi attualmente il trattamento è in offerta lancio al costo di 15 euro e 20 euro la piega in totale 35 euro successivamente ci sarà un rialzo del trattamento quindi costerà 30 euro più la piega 50 euro io vi invito successivamente a guardare l'aspetto finale del capello che poi faremo la piega perché in effetti il proposito qual è che attraverso il vapore tutti gli ingredienti gli amminoacidi che sono stati inseriti all'interno dell'applico avranno la possibilità di penetrare con una maggiore forza rispetto a un normale trattamento che viene fatto al lavaggio tipo che so una maschera ristrutturante che per quanto buona non riesce a essere così incisiva come lo può essere il vapore ma questo succede secondo me anche per per i trattamenti per il corpo credo eh non voglio entrare in un campo che non è di mia competenza però in questo caso diciamo che il trattamento ha questa finalità questa funzione non bisogna fare altro che massaggiare sollevare e distribuire il vapore dopo di che si passa successivamente immediatamente alla piega non bisogna creare risciacqui non bisogna fare nulla di più l'unico shampoo si fa all'inizio per aprire le squame e poi si va tutto ad applicare con il vapore eccoci eccoci alla terza fase la spazzola che scivola più velocemente perché prima le punte erano molto 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 annodate quindi avremo una maggiore lucentezza ed eccoci alla fase finale dopo l'asciugatura se fate caso il capello è ancora un po' debilitato però abbiamo ottenuto già una forte percentuale di chiusura perché purtroppo la decolorazione è qualche cosa di micidiale è un'energia molto forte che se non è guidata bene ovviamente può creare dei danni irrivarabili in questo caso abbiamo fatto il primo trattamento diciamo che già dal secondo trattamento avremo una maggiore struttura quindi un capello più densificato all'interno in modo da evitare l'inevitabile e cioè il taglio dei capelli perché la cliente ovviamente li ama a lunghi quindi ringrazio la mia cliente e un saluto alla prossima eccoci qui non ci resta che salutarci e vi aspetto al salone per una consulenza e vi ricordo inoltre che ho riservato per le prime dieci persone che prenoteranno il costo del trattamento per quattro trattamenti compreso la piega al costo di 150 euro invece di 200 euro quindi ci sarà un risparmio di 50 euro solo per dieci persone che prenoteranno entro questa settimana va bene spero di aver fatto cosa gradita e vi auguro una felice serata grazie a voi arrivederci grazie a tutti